Bene amici di HDblog, NGM Next che sta girando questo video con la sua camera rotante da 13 megapixel, siamo partiti da una macro, ora il campo più lungo, proviamo a fare un pan veloce, zoomiamo, guardiamo un po' come si comporta, zoom massimo 4x, eccolo qua, torniamo indietro, zoom normale, ora il controsole, bellissimo tramonto a Milano, luci più normali, velocissimo l'adattamento alle luci, tra l'altro camera rotante che permette anche questi effetti, io sto tenendo fermo il telefono e ho girato solamente la camera.